salve a tutti ragazzi e ragazze oggi sono di nuovo qui con un video di commenti idioti dei vegani come sempre ringrazio tutte le pagine da cui prendo i commenti potete vedere i loro nomi nei loghi sugli screenshot che di volta in volta vi leggo visitatele e non ve ne pentirete però ci tengo a ringraziare una pagina in particolare cioè vegano stammi lontano allora voi dovete sapere che nel corso del tempo più di una pagina mi ha chiesto il permesso di condivide i miei video non solo quelli riguardanti i vegani però per condividere loro intendevano ricaricarli sulla loro pagina non intendevano condivide il link ai video mia su youtube ecco tra tutte queste pagine ci sono stati quelli dei vegano stammi lontano che invece senza nemmeno chiedermi niente hanno preso e hanno condiviso i video mia sulla pagina loro e per condiviso intendo proprio che hanno condiviso i link ai video mia non era assolutamente un gesto dovuto invece loro l'hanno fatto senza chiedermi nemmeno niente in cambio perché poi su facebook è una guerra c'è sta gente che paga per farsi condividere un video su una pagina invece loro l'hanno fatto senza chiedermi niente in cambio poi considerate che ci hanno più di 100.000 like sulla pagina insomma era un gesto non da tutti e veramente apprezzato sono stati proprio gentili quindi non potevano ringraziarli come se deve trovate il link alla loro pagina in descrizione visitatela non solo perché posso chiedere io ma proprio perché ci hanno di tutto se cercate commenti di tutti dei vegani andate da loro e ne trovate appalate detto questo cominciamo subito col video allora sentite questo qui che confronto che ha fatto ha detto perché tu pedofilo non smetti di abusare dei bambini e allora il pedofilo risponde mi piace la loro carne è più forte di me non riesco perché tu onnivoro non smetti di mangiare gli animali e allora l'onnivoro risponde mi piace la loro carne è più forte di me non riesco la stessa cosa no qual è la differenza nessuna tutti e due dicono di amare le loro vittime nessuno non c'è alcuna differenza cioè non c'è alcuna differenza tra noi che mangiamo carne e un pedofilo secondo la capoccia loro capito fanno schifo entrambi la differenza è che un abuso è legale l'altro no solo quella vanno chigliottina di entrambi cioè tutti noi che mangiamo carne dovremmo essere chigliottina di esattamente come i pedofili capito nessuna differenza questi sono matti ragazzi vedete che visione che c'è hanno questi sono pericolosi questo qua uguale quelli che la carne la mangio perché mi piace potendo sono degli abusi sugli animali sono gli stessi che per coerenza giustificherebbe un pedofilo che fare sesso con i bambini mi piace ma questa è uguale ma che cazzo stai a dire ma questi ma che questo qua questo qua è il massimo delle argomentazioni che avete voi per convincere la gente a diventare vegana ma che cazzo che argomentazioni sono ma che mentalità sapete questa qua uguale questo qua ha condiviso un articolo del sito fanpage.it in cui si parlava di una madre che costringeva le due figlie di 5 e 7 anni a girare video pornografici cioè è una pazza praticamente è una pazza e questa qui l'ha condiviso aggiungendo questo messaggio ecco cosa fa la carne e tutte le schifezze che mangiate vi fanno impazzire l'anima e la carne capito poi criticano chi cresce i figli vegan che tutelano sia gli animali che loro stessi cioè la carne questa qui ha fatto sta cosa non perché è una pazza psicopatica ma perché mangiava carne se con la testa sua capito cioè ma che cazzo vi dice la capoccia io non ho parole questa qui cioè sentite questa qua questa è una mamma vegana neanche più il catechismo è un posto sicuro roberta mi torna a casa con questo schifo cioè sta cosa qua e la catechista che si è vestita da befana questa signora senza amore per gli animali che gli ha anche detto che le olive e i datteri dolci non sono i classici regali della befana fatti cazzi tu hai puttana assassino cioè questa qua è data dei caramelli questa si è incazzata capito pure il gentile sta messa si è vestita da befana tutta carina questa qua è la scuola con i datteri cioè mia nonna mi diceva queste cose quando era piccola lei che c'è stava a guerra che dicevano la lira pepabia fanate davano i datteri e noci i fichi secchi sta roba come perché insciavano la lira poracci se avessero avuto i caramelli si sarebbero mangiate con tutta la carta e questa qui invece capito sei incazzato questo qui mi sembra giusto ma che cazzo questa qui sta a piagne a piagne per una cosa di caramelle ma che cazzo fide perché dice i mamme vegani erano meglio sì sì queste sue vere psicopatiche questa verità questo qua invece un mix spettacolare questo qua è proprio il top del top complottista è vegano una cosa esplosiva proprio perché gli alieni ancora non sono usciti allo scoperto vogliono che l'umanità aumenti molto di più siamo pochi per loro dopo ci schiavizzeranno anche fisicamente politica scienze religioni vi plagiano capito ce le plagiano in modo che voi non capiate che vi stanno schiavizzando e se continuano a mangiare carne non lo capirete mai loro ci hanno messo in testa attraverso sistemi di credenze che dobbiamo mangiarla perché la carne riduce le vostre vibrazioni fino ad azzerarle e a loro serve questo io vi sto avvisando ma che cazzo questo è un psicopatico questo qua sarà scrive dall'internet point di qualche manicomio secondo me ma che cazzo che si è inventato questo dentro il cervello suo io pare che scherzo con queste cose ma questo qua è veramente un psicopatico cioè questo ha messo a mezza alieni che ci stanno per ridurre le vibrazioni fino ad azzerarle ma che cazzo stai a dire che c'entra la carne ma anche se fosse che c'entra la carne che cazzo stai a dire e questi non so troller questa gente vera io lo dico sempre ecco questa qua pure guarda questa power top der top questo qua è l'attentatore del berlino no che col camion ha ammazzato un sacco di persone no e questa qua ha dato lei ha dato questa spiegazione a questo evento a lal o non a lal i consumatori di carne sono intresi di violenza noi ci mettiamo davanti al camion della morte voi vi mettete alla guida questa è la differenza c'è capito questo qua ha fatto sta tentato non perché era un passo psicopatico ma perché mangiava carne se lui fosse stato vegan non l'avrebbe mai fatto ma che cazzo stai a dire e parte che se con noi visti gli animalisti che girano chi sarebbe capace di fare una cosa del genere sono proprio loro invece che noi comunque ma che cazzo stai a dire io veramente comunque passiamo a qualcosa di più leggero questa qua ha trovato un'ape mezza morta in giardino e ha scritto ciao a tutti sapete cosa fare quando si trovano api che non riescono a volare io l'ho trovata oggi uno in giardino e vorrei salvarla questa sta a salvare l'ape capito che abbare l'ambulanza e questo è consigliato un cucchiaio con acqua e zucchero lei beve sicuramente è stremata magari tienilo un po al caldo mettili vicino una bottiglia piena di acqua calda forse congelata mettili una coperta tu stai lì capito con l'ape capito di fare respirazione metti a coperta coperta l'ape come fa a coperta l'ape ma che cazzo stai a dire questo qua è un articolo in cui si dice che giovanotti ha donato 15 quintali di crocchette al canile di cortona cioè una tonnellata e mezza di crocchette al canile che è una cosa veramente un gesto nobile no e questo qui sentite che ha detto ma crocchette di cosa fatte di carne magari di carne che non è nella natura canina di mangiare oggi esistono ottime saltuori e convenienti mangimi vegani anche per gatti lo testimoniano le ottime saluti di cani e gatti con cui vengono nutridi così il gatto è vegano ma che cazzo stai a dire presenti che ha detto e poi è vero è un po troppo massone per essere una brava persona un po troppo massone giovanotti scherzi che la massoneria sta allora qualcuno sa che crocchette sono siete pazzi e lui è un buffone massone avendo i mezzi per dare queste crocchette poteva benissimo dare salutare i cibi vegan è proprio un ipocrite incoerente massone ragazza gente esiste in un mese è proprio questo qua capito tu dai una tonnellata e mezza di crocchette al canile e diventi sei un ipocrite incoerente massone ma che cazzo muove leggo un attimo un paio dei segreti che ho trovato su in segreto eh sono il proprietario di un nuovo sito web per vegani e non potete capire l'immensa passione che ci mettono a prendere per il culo i vegani e guadagnare alla faccia loro dei loro presunti ideali ho visto la possibilità di poter sfruttare la nicchia e la sfrutto inutile parlare del fatto che mangio carne come se non ci fosse un domani un abbraccio miei cari veg spero questa moto non passi mai volevo sfogarmi troppo tempo ora mi sento bene ma io lo dico sempre ragazzi lo dico sempre dovemo pure noi fa ste cose si fanno un sacco di soldi perché questi qua basta che leggono veg e sono contenti ci hanno l'acqua vegana e il posto letto vegano l'orologio vegano i parrucchieri vegani tutto vegano tu basta che scrivi vegano e loro sono contenti e il ghiacciolo vegano quell'altro ma che cazzo veramente questo ha fatto bene bravo infatti ha fatto proprio bene quest'altra ho appena mangiato metà del vius del destinato al mio cane sono una padrona orribile e sono vegana pensate che scena triste che c'è proprio polaccia questa questa qui stava andata a mangiare il vius dell'arcane e c'aveva una fame che stava portavvia capito si è mangiata il vius del pensare polo cane che ne ha mangiato perché lei si è mangiata il vius del che ne ha fatta più ma magna ma ha mangiato un po' di carne e lascia e fa mangiare il polo cane tuo polaccio poi se un altro questa qui stava dai da mangiare il vius del arcane no i crocchetti vegani come quell'altra e per concludere vi leggo qualche commento idiota vegano che mi hanno lasciato sul mio canale perché pure il canale mio mica esente da ste cose ovviamente io rompo sempre i coglioni qualcuno dove arriva per forza allora questo qua sotto al video ho fatto di commenti idioti dei carniori in cui quindi prendevo in giro noi carnivori questa cosa è incazzato peccato che i vegani sentite che mi ha detto peccato che i vegani in ospedale non esistono di onnivori a volontà ragazzi io veramente ma come poi di una puttanata del genere i vegani secondo loro non si ammalano non si abbiano l'influenza se fai il botto con la macchina comunque devi salvi perché sei vegano che scherziamo ragazzi invece di onnivori è pieno ma vaffanculo quest'altro sotto al video del natale perché a me piace stare mi fanno ridere io c'è goto quando la gente si incazza infatti per quello metto sempre tutte quante ste immagini di gente che magna carne così loro si incazzano ancora di più e questo sotto al video del natale del triste natale di vegani mi ha scritto dislike più di 999 milioni di dislike non mi piace stai incazzato no e poi sotto un altro video di vegani il numero 4 che ho fatto gli idioti sei tu necrofago regà regà questo è vero io ma mangio quelli di colore capito non so semmai necrofago necrofago ma mangi quelli di colore poraci quelli del ghetto mangiatore di morte tu farei la stessa fine di un animale in sala operatoria tagliato dal chirurgo e verrai privato di un organo che mi ha curato un cancro mi ha curato io ho detto ma vattene a fanculo perché non è così dopo di te prego necrofago perché poi insiste non è stato un errore lui proprio scrive così necrofago di merda hai violato un vizio capitale del piacere della colore scritto poraccio poraccio mamma mia e che gli va rispondere a questo raga poraccio mamma mia solo così poi gli risponde quest'altro invece sotto al video degli animalisti che ho fatto un video che mi ha fatto incazzare infatti ne farò pure un altro che veramente non nasce piano con questi video perché mancazza troppo animalisti e sei peggio questo qua mi ha scritto questi video di questo personaggio fanno parte del sistema e lui probabilmente non se ne rende conto e voi ci andate dietro come pecore lo scopo di questi video è creare astrio tra di noi capito mantenere la dualità con l'obiettivo finale di creare basse energie che nutrono appunto il sistema e trattenere dentro il ricinto della matrix cioè perché questo qua pure è un altro che lui è pure complottista capito io in realtà faccio parte del sistema ragazzi voi non lo sapete ma siete iscritti al mio canale che fa parte del sistema e che cazzo ha detto poi creare astrio tra di voi voglio creare io capito mantenere la dualità con l'obiettivo di creare basse energie ma che è sta roba ma che si proprio i firme si vedono mamma mia che mix complottista e vegano sto veramente quest'altro invece sotto sempre sotto al video del natale neurotrom la moda è mangiare carne non non mangiare non ci arrivate c'è capita la moda noi mangiavamo la carne per moda sono migliaia di anni che mangiavamo la carne per moda una moda molto forte da levare non siete voi che non mangiate per moda no è quante stronzate in descrizione da tipico ignorante la tristezza semmai regna sul tuo menù ecco che il poraccio perché gli piavo per culo sul menù vegano del natale poraccio quello si è arrabbiato ma quanto stai rosica dillo questo sotto al video dei mamme vegani sei una persona tra virgolette perché manco sono una persona ignorante legge un po' i documenti ad ignoranti c'è un povero coglione basso detto poraccio e per concludere vi leggo invece cinque commenti che mi hanno lasciato dei vegani sotto i miei video perché io ci sono tanti contrariamente a quanto si possa pensare io ci sono tanti descritti vegani allora questa qua mi ha scritto sono se hai fatto una risata mi ha scritto sono vegano ma i tuoi video sui vegani sono i più divertenti continua così brava questo mi ha scritto io sono vegano ma questi qua sono deficienti e questa la gente che rovina questo termine io lo dico sempre questi qua sono loro che buttano merda su tutta la categoria io infatti prendo per culo idioti vegani non è che prendo un gioco tutti i vegani come quando ho fatto un video sulle mamme pazze non è che ce l'ho con tutte le mamme del mondo su quelle pazze no sono vegano ma adoro i tuoi video bravo grazie mi fa troppo piacere guarda questo qua detto io da vegetariano mi sono staccato del tutto da gruppi vegetariani e vegani troppi fanatici ma quello che dico io perché poi alla fine ogni epoca c'ha avuto un gruppo di persone che si è ritrovato pieno di tutti quanti sti pazzi scatenati adesso sono gli animalisti e i vegani no tutti là stanno andando capito tutti i pazzi che sanno come sfocasse vanno là capito e quindi bravo bravo pure tu quest'altra sono vegetariana tendenzialmente vegano e ti seguo molto volentieri sei simpaticissimo mi fa fare un sacco di risate brava grazie mi fanno troppo piacere sti messaggi quindi mi mando un saluto a tutti e cinque e pure a tutti quanti gli altri iscritti vegani al mio canale vabbè dai su pure per oggi è tutto dai bollette abbastanza stronzate penso che sarete saturi pure per oggi dai su ci vediamo al prossimo video un saluto ciao 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 ciao